Buon pomeriggio cari amiche e cari amici. Allora finalmente si opera per quello che riguarda il difensore centrale. Non è una novità, non è una sorpresa. Alla fine, visto anche la volontà o almeno l'apparente, l'ipotetica volontà di Matteo Gabbia di ritornare al Milan, lui prestato al Viglia Real dove è stato buon protagonista nelle coppe più che in campionato, sembra che ormai sia un fatto ineluttabile per fortuna l'arrivo di Gabbia, il giocatore prestato al Viglia Real. Sarà una questione di ore o di giorni ma non credo manchi molto, può darsi che il giocatore possa essere già a disposizione in panchina per il match contro il Sassuolo, certamente sarà in panchina o addirittura titolare nel match contro il Cagliari. Il Milan ha bisogno di, scusate, magari un po' cruda, carne fresca per la difesa, per il ruolo di difensore centrale. Il primo passo è il passo più facile, quello di prendere un giocatore nato nel Milan, italiano, che conosce bene, anche perché poi ci saranno le liste UEFA, che conosce bene le metodologie di allenamento di Pioli, che conosce bene quello che vuole Pioli dal difensore centrale e potrebbe giocarsi la sua chance. Lui, considerato sempre il quarto o quinto fra i difensori centrali, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Ci auguriamo che sia ulteriormente cresciuto e in effetti averlo dato al Viglia Real era proprio per permettere a lui di giocare e al Milan magari di avere un giocatore ancora più competitivo, vedremo, ma in ogni caso serviva. Questo che cosa comporta? Che il Milan ha incominciato a prendere un difensore centrale, ma ne servono sicuramente due. Non sappiamo tra Ekererer o L'Anglè o Mucuele, non sappiamo quale potrebbe essere il giocatore, però in questo momento è prematuro. Intanto ne portiamo a casa uno facile, nel senso che la trattativa è semplice. Poi bisogna vedere, bisogna vedere anche la filosofia dei dirigenti del Milan, quanto vogliono investire, se vogliono investire per il mercato di gennaio. È chiaro che la condizione di Stefano Pioli, che è una condizione di un allenatore che al 99% non sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione, potrebbe fare valutare i dirigenti nel non investire tanto, qualcuno suppone. Per me sarebbe una cosa sbagliata, perché Pioli sì, Pioli no. È importante che Pioli abbia a disposizione una squadra da fare giocare bene per ottenere risultati in continuità. Non è un problema se rimane o non rimane nella prossima stagione. Il problema è di arrivare in questo momento, di consolidare intanto il terzo posto ed essere competitivi per l'Europa League. Proprio le prossime settimane devono essere settimane che debbano conciliare le esigenze del campionato con le esigenze della Coppa Italia, che diventa un traguardo... Adesso non è che ho cambiato idea. Coppa Italia se la vince l'Inter è poca roba, se la vince Milano è tanto. È un traguardo che ti può portare a una Coppa. È un traguardo, visti gli avversari, almeno per la conquista della finale, poi la finale vedremo, ma certamente potrebbe dare un ulteriore rustro a questa carriera di Stefano Pioli, che in questo momento, ovviamente ai minimi termini, come considerazione da parte dei tifosi, ma indubbiamente speriamo che possa guadagnare qualche step nella considerazione del popolo rosso-nero. E questo potrebbe essere attraverso un buon cammino in campionato autorevole di mettersi i terzi sicuri in attesa di capire cosa succeda. Il campionato deve essere allenante per la Coppa Italia, che ripeto, rimane un traguardo accessibile e non dispiacerebbe a nessuno alzare una Coppa nella prossima primavera, e per la Europa League. Tutto sta a capire quali giocatori potrà avere da questo mercato di gennaio. Continuano a parlare di Ghirassin, non capisco il perché, non capisco il perché e c'è un motivo. Il giocatore, come vi ho detto, non vorrebbe lasciare lo Stoccarda per aumentare il subottino di reti, aumentare la sua caratura, la considerazione da parte dei club magari inglesi e poi monetizzare alla fine della stagione, nel passaggio da un'altra parte. Quindi in un altro club, ripeto, spera lui inglese. Quindi questa è un po' la situazione che mi spinge a ritenere la situazione Ghirassin piuttosto complicata. Non ho assolutamente idea che cosa vogliono fare per quello che riguarda il centrocampo o eventualmente un'altra punta. In questo momento addirittura qualcuno ipotizza anche gli allenatori del prossimo per il futuro, ma mi sembra il presente da valutare bene, da considerare bene. Primo passo, Gabbia. È già abbastanza chiaro che anche il suo consiglio, forse, di Zlatan Ibrahimović, si è ritenuto opportuno non cambiare l'allenatore perché non si è trovata una soluzione soddisfacente a partire proprio da Abate, allenatore della primavera, che in questo momento forse non ha ancora l'esperienza necessaria in una fase della stagione complicata come risultati, come infortuni, come ambiente. Non è un ambiente favorevole a un allenatore nuovo, nel senso che i tifosi rimangono perplessi pur, mi dicono, riempiranno il giorno 30 il San Siro per la partita del Milan contro il Sassuolo, a dimostrazione che sì, c'è un po' di sconcerto, c'è un po' di insoddisfazione, però tutto sommato il pubblico del Milan è vicino alla squadra che gli regali, almeno l'ultima partita dell'anno, contro un Sassuolo che, come ho sempre detto, quando arriva all'inverno è più pernicioso per il Milan, non vince, mi sembra che perda da tre stagioni consecutive, comunque non vinca da tempo ed è più pernicioso di un'influenza il Sassuolo d'inverno per il Milan, che ha sempre cercato di combattere con una bella anti-influenzale, ma il Sassuolo è veramente micidiale, è già costato il posto ad Allegri, non dimentichiamo che il cammino splendido di quel ragazzo lì, di Pippo Inzaghi, che ci aveva portato al terzo posto, mi sembra, dopo aver battuto il Napoli 2-0 con prestazione autorevole, anche per lui i problemi sono cominciati, sicuramente per qualche infortunio di troppo, ma con la sconfitta di Sassuolo. E lì è cambiata anche forse la carriera di Pippo Inzaghi in rosso-nero, perché fino ad allora stava andando veramente bene, ripeto, terzo posto vittoria sul Napoli, poi il mese di gennaio e febbraio furono una catastrofe e da lì poi il Milan ritenne opportuno cambiarlo a fine stagione, stagione con tutti i dolori del caso. Però proprio il Sassuolo, oltre ad Allegri, è costato tanto, secondo me, anche a Pippo Inzaghi. Speriamo che non costi tanto a Stefano Pioli, perché chi si augura questo si augura che il Milan perda e magari sono così bravi di pensare al futuro, ma anche se il Milan perdesse non ha i punti e poi bisogna cercare un allenatore che non dà, indubbiamente in questo momento non c'è in giro, da quello che hanno valutato i dirigenti, sono loro che stanno cercando, un allenatore capace di risollevare il Milan da una situazione complicata. Intanto dobbiamo capire, per esempio, anche, non ci sono delle prognosi precise, la diagnosi è abbastanza precisa, la prognosi no, sull'assenza di Tomori, ma si parla di un mese e mezzo, due, quindi anche Tomori è un altro giocatore che con Ren non lo vediamo. Il Milan deve allenarsi in campionato a livello di test, a livello di cuore, a livello di gambe, quindi vincendo prestazioni autorevoli, ma sempre finalizzato di arrivare al massimo livello nella semifinale che però sarà più avanti con Fiorentina e Bologna, ma prima ancora riuscire ad arrivare bene alla partita con Ren, il vero obiettivo. Squadra totalmente accessibile, squadra con dei buoni giocatori, ma che non è mai riuscita a esprimersi al meglio in questa stagione, e il Milan deve in campionato, intanto consolidare il terzo per poter avere delle rotazioni in vista del match con Ren. Vediamo, intanto non dovrebbe esserci, non sappiamo se ci sarà in questi giorni, non credo, Zlatan Ibrahimovic, vedremo se torna per la partita con il Sassuolo, però incominciamo ad attendere qualche sua, diciamo, iniziativa concreta, palpabile per risistemare un po' le cose, o parlando con i giocatori, o parlando con Pioli, o parlando con i preparatori, o parlando con i fisioterapisti per trovare le migliori soluzioni. Nel mio video di questa sera, nel mio video di questa sera, quello delle sei, ci sarà una bella e lunga intervista, quello delle sette, lunga intervista ad Andrea Saronni, parleremo del momento del Milan, parleremo del suo libro dedicato al 1983, con al primo piano la fotografia di Joe Jordan dopo aver segnato nel match vittorioso di 40 anni fa circa contro il Monza, battuto 4-0. Quindi una bella intervista per i nostaldici, ma anche per chi ama il Milan da sempre e per quelli che vogliono sapere, anche da Andrea Saronni, vecchio cuore rosso-nero, quali potrebbero essere adesso le iniziative, le strategie per uscire da un momento complicato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.